Pino, tu sei un profondo conoscitore del metodo di taglio all'italiana. Come si è evoluto nel tempo questo metodo e come è stato interpretato negli show di questi giorni? Sì, diciamo che si adatta, si adatta perfettamente a tutto con l'evoluzione. L'evoluzione è continua, la facciamo in continuazione sempre aggiornamenti al metodo di taglio, che comunque è un metodo contemporaneo, non ha età, non ha un tempo, dunque la sua identità è ben chiara e ci permette di realizzare col tempo qualsiasi trasformazione e evoluzione per rimanere sempre al passo con la moda. Qui al Congress naturalmente non poteva assolutamente mancare perché il nostro cavallo di battaglia che va abbinato a tutto il mondo del servizio colore è stato perfettamente interpretato da tutti i gruppi stilistici nel miglior modo adattando al massimo delle esigenze per creare nuove proposte moda dunque riduzione dei tempi al massimo, massima precisione ed il massimo risultato veramente in una maniera eccellente, dinamica, pulita e veloce.